Ben trovati al meteo. Il weekend prosegue con un tempo più stabile grazie all'aumento della pressione, ma sarà soltanto una breve pausa perché lunedì tornerà la pioggia. Nel dettaglio sul Veneto la grafica di domenica 25 ottobre ci mostra una situazione tutto sommato buona. Il tempo migliora e la giornata sarà per lo più soleggiata. Precipitazioni assenti. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle nebbie al mattino. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime invece tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia, Giulia. Tanto sole su tutti i settori. Cielo al massimo poco nuvoloso. In nottata, primi piovaschi. Temperature minime fino a 13 gradi, massime sui 19 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui bel tempo soleggiato ovunque. Non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime sui 7 e 8 gradi, massime sui 17 e 18 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto. Io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.